Ciao, per il secondo gioco ho pensato di fare un gioco a gioie, non so se sapete cos'è, quello che più o meno fa così, dormire, salutare, ok, solo che sarà dell'equilibrio, quindi ora vi farò vedere passo dopo passo come eseguire i comandi. Per alcuni comandi vi servirà anche l'aiuto di mamma o di papà, quindi siate sicuri che ballino anche loro con voi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Qui marciamo con i cavalli, sulla gamba un bel calcione con tutti i due le gambe, poi la gamba e poi l'altra. Sarnicchiamo su una gamba, poi l'altra. Camminiamo su un braccio e la gamba opposta. Salto laterale da una parte e dall'altra. Un salto a gambe aperte, un salto a gambe chiuse, mentre diamo il spray. Ci abbassiamo, facciamo vedere i muscoli delle braccia. Ci abbassiamo sulle punte a toccare il nave dei nostri genitori. Campana Piegate un po' le ginocchia e fate l'ok con entrambe le mani. Baciare Una mano sotto la testa e la gamba avanti. Saluti Saluti Superman Piegate un po' le ginocchia e fate l'ok con 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 un po' le ginocchia